Come devono comportarsi il medico di famiglia e il cardiologo quando i livelli di trigliceridi superano certi valori potenzialmente pericolosi per la salute? Lo abbiamo chiesto al professor Giovanni Battista Desideri che abbiamo incontrato nel corso di un convenio molto bello che prende il nome di Nel Cuore di Santa giunto alla quindicesima edizione. Professor Desideri, ultimamente non si parla solo più dell'attenzione nei confronti del colesterolo che oramai è conclamata ma c'è anche grande attenzione nei confronti dei trigliceridi. Quali sono i livelli di trigliceridi oltre i quali il paziente dovrebbe incominciare a preoccuparsi e perché possono far male al nostro cuore? L'attenzione nei confronti dei trigliceridi nel corso degli ultimi anni è unitata progressivamente in ragione di una serie di evidenze che hanno dimostrato un ruolo importante nel cosiddetto rischio residuo cioè quel rischio che rimane una volta che abbiamo ottimizzato il controllo degli altri fattori di rischio ad esempio il colesterolo e il LDL piuttosto che l'ipertensione arteriosa. Il livello di attenzione è rappresentato fondamentalmente da 150 mg decilio ciò non vuol dire che immediatamente all'isopra di questo livello il paziente debba preoccuparsi ma evidentemente il merito deve cominciare a porre attenzione alla problematica lipidica del paziente a 360 gradi non soltanto facendo riferimento appunto al colesterolo e al LDL ma anche ai trigliceridi. Diciamo che se un paziente viene alla nostra attenzione con un profilo lipidico in cui il colesterolo e al LDL è a target ma continua ad avere trigliceridi al di sopra di 150 ecco doveva scattare un momento di attenzione per cercare di correggere anche quel parametro. Ecco, quel parametro come si corregge? Con lo stile di vita è sufficiente oppure bisogna anche utilizzare i farmaci? E in questo caso quali farmaci? Beh, lo stile di vita è straordinario, rappresenta una risorsa che non può essere barattata con nessun intervento farmacologico. Il problema di fondo è che molto spesso l'approccio non farmacologico non viene adeguatamente seguito dal paziente se ben seguito soprattutto in chi ha eccedenza ponderale questo comporta un miglioramento del profilo metabolico e un miglioramento anche di livelli di trigliceridemia. È importante ragionare in termini di target, non di trattamento cosmedico quindi se non si riesce a raggiungere il target è evidente che è necessario approcciare dal punto di vista farmacologico. Ora, le linee guida ci dicono che il primo livello di intervento è rappresentato dall'uso di statine ad alta potenza, ad alta efficacia perché esiste una certa evidenza di efficacia ipotrilici eritimizzante. Laddove questo vantaggio non sia assolutamente concreto esiste una seconda linea di intervento che è rappresentato dai PUF N-3 e dai fibrati. Soprattutto i PUF N-3 nel corso degli ultimi anni hanno riscosso di interesse straordinariamente importante in ragione di evidenze di efficacia cardioprotettiva assolutamente importanti. Ecco, quelli cosiddetti altamente purificati danno un vantaggio aggiuntivo, professor Desiderio. Allora, noi abbiamo le evidenze derivanti da uno studio che si chiama lo studio Reducit che è dimostrato in maniera molto convincente, condotto in una categoria di pazienti molto ben controllati per quanto riguarda gli altri determinanti rischi, soprattutto il colesterolo e l'LDL che è con l'aggiunta di PUF altamente purificati, sostanzialmente icosapentetil, questo è il nome del prodotto di questo particolare PUF appunto altamente purificato, alla dose di 2 grammi per 2, ha ridotto in maniera importante circa il 25% l'outcome primario dello studio rappresentato fondamentalmente da quelle problematiche che noi sistematicamente cerchiamo di ridurre nei nostri pazienti è rappresentato dalla morte cardiovascolare, piuttosto che dallo stroke non fatale, piuttosto che dalla necessità di rivascolarizzazione e più in generale eventi cardiovascolari acuti. Quindi noi abbiamo dati oggi che ci dicono che intervenendo con questo specifico trattamento in pazienti che presentano un profilo di rischio cardiovascolare elevato e di pertegliceridemia riusciamo ad ottenere una considerevole riduzione del rischio di eventi. È importante tener conto di un aspetto che ritengo sia fondamentale, e purtroppo noi come abitudini alimentari abbiamo bassi livelli di PUFA all'interno del nostro organismo e questo è qualcosa su cui dovremmo ragionare perché il cosiddetto omega index che è un parametro che definisce fondamentalmente il nostro livello di esposizione a questi prodotti è estremamente basso, circa il 4% rispetto a popolazioni tipo il Giappone, intorno al 9% e questo basso livello comporta un aumentato rischio di eventi. Perché in quali cibi si possono trovare? Fondamentalmente i PUFA e nemmeno 3 li troviamo in quantità particolarmente importante, in forma nobile, nel pesce, tant'è che la larga quota di prodotti che noi sistematicamente troviamo o come prodotti farmaceutici piuttosto che come integratori diriano fondamentalmente del pesce. È fondamentale tener conto di un aspetto che credo sia utile da considerare. Non ha senso una somministrazione, un'assunzione pulsata a cicli perché l'importanza dell'effetto protettivo dei PUFA e nemmeno 3 è strettamente dipendente dalla continuità dell'esposizione all'assunzione fondamentalmente e a dosaggi congrui. Quindi questo è un aspetto che credo rappresenti un messaggio da portare a casa. Quindi se si inizia una terapia bisogna poi portarla avanti con costanza in modo tale che l'effetto poi sia duraturo? Assolutamente sì, vale per i PUFA e nemmeno 3, vale per tutte le strategie di prevenzione cardiovascolari. Le malattie croniche, in quanto croniche, non possono essere trattate a cicli nel momento in cui il parametro si normalizza, ma devono essere trattate stabilmente fino a che quel fattore di rischio non viene eliminato, ma di fatto ciò non accade mai. Quindi la continuità della terapia è fondamentale.